Siamo a 10.000 Siamo felicissimi Guarda non potevamo chiedere di meglio Guarda facciamolo vedere Aspetta 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 Dooma 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 Fai vedere se si sta vedendo Non lo so non lo so Comunque in questo momento sono addirittura 10.104 Iscriviti Abbiamo fatto i 10.000 tipo oggi alle 9 del mattino E sono già 100 in più E' una cosa incredibile Il nostro veterano Only Revenge è riuscito addirittura a mandarci lo screenshot In tempo con i 10.000 tondi tondi Ve lo faremo vedere su Instagram Ce lo stampiamo Sono troppo euforica Lo so che sembro la tipa di quel video che tu ti prende Esatto Però sono davvero troppo felice Andiamo a far vedere una cosa festeggiando Siamo a 10.000 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 Devi cantare però No sto stanata grazie C'era anche la nostra camera che era un disastro ma non mi interessa nulla Sono talmente felice Pazzesca Vi facciamo vedere cosa abbiamo preso per festeggiare i 10.000 Fai vedere Un gatto Un pepozzo No no fai vedere la casa Purtroppo quella ce l'abbiamo già da una vita Abbiamo preso una bellissima torta Guardate che buona Sembra davvero benissimo Cos'è con le meringhe? Secondo che cos'è Allora le cose bianche sono meringhe Non so che cos'è quell'altra cosa Questi qua Cioè questi non capisco cosa sono Probabilmente cioccolato Quindi va benissimo Abbiamo preso la torta Per festeggiare questo bellissimo Traguardo enorme Che abbiamo finalmente raggiunto Esattamente Siamo davvero felici Ovviamente cercheremo anche di fare uno speciale Abbiamo in mente una cosa C'è giusto il problema che ci stanno per togliere la videocamera Quindi dobbiamo davvero muoverci in fretta Perché è di mio fratello e alla fine gli serve Quindi cercheremo di muoverci e farlo il più velocemente possibile Esattamente Però abbiamo un'idea davvero bella E la vogliamo assolutamente fare Comunque ragazzi vi ringraziamo davvero tantissimo Oggi uscirà anche un altro video alle 19 Che è su Roblox È uscito un altro raduno così a casaccio Non abbiamo detto nulla Siamo entrati su una mappa per provare se andava bene per un video Sono entrati in 10 A quel punto abbiamo fatto dai Compriamo un altro server da 20 persone del gioco E ci siamo ritrovati a essere 20 consolini a registrare 20 consolini a giocare tutti assieme È stato divertentissimo Quindi oggi uscirà anche quello Adesso noi ci gusteremo la bellissima torta Ve la vorremmo offrire ma non possiamo Una fetta di torta per tutti i 10.000 consolini Esatto fate finta che ve l'abbiamo offerta Almeno ve l'abbiamo fatta vedere Quindi facciamo finta che sia anche per voi Ok ragazzi quindi ci vediamo più tardi Vi ringraziamo ancora per questo traguardo Davvero meraviglioso Siamo felicissimi Noi puntavamo i 10.000 per Natale Ma neanche Abbiamo detto chissà quando li facciamo Cioè invece sono arrivati prestissimi Infatti siamo davvero felicissimi Non ci sono parole per esprimere la nostra felicità Esattamente Ci vediamo dopo con Roblox ragazzi Ciao ciao